Full Car Service SRL è una realtà ventennale, siamo nati qua a Valleggio sul Mincio, in località Fontanello. Oggi vi presento la nuova sede che abbiamo inaugurato l'anno scorso ad ottobre con i vari servizi che porteremo dentro questa sede qua. Innanzitutto abbiamo il nuovo centro revisioni, abbiamo la vendita degli automezzi, abbiamo il noleggio, oltre che avere l'ufficina, gommista, elettrauto, soccorso stradale e altri servizi ancora. Il nuovo centro revisioni di Full Car Service prevede una revisione sulle auto e furgoni fino a 35 quintali e prossimamente faremo anche moto e quadricicli. Inoltre ci tengo a far sapere che le prime 300 revisioni, sia di macchine, di furgoni, eccetera, i primi clienti avranno un buono carburante di 10 euro. Full Car Service SRL è un'ufficina autorizzata dalla Bosch Car Service, ciò vuol dire che possiamo usufruire di tutta l'assistenza del servizio Bosch. Full Car Service SRL, come suggerisce il nominativo, si occupa di tutti i servizi riguardanti l'auto. Partendo dalla pura meccanica, passando dalla parte elettrica riguardante l'elettrauto, avendo a disposizione tecnici specializzati, passando anche dalla parte delle gomme, avendo a disposizione un gommista, abbiamo anche la possibilità di tenere in deposito le vostre gomme. Full Car Service SRL è anche da poco un'ufficina autorizzata a lavorare su macchine con impianto ibrido, o anche interamente elettrico, grazie ai certificati PES, PAV e PEI. La Full Car Service SRL ci tiene soprattutto a tenere il passo con le tecnologie degli ultimi anni e ha a disposizione un'attrezzatura particolare che può calibrare e tarare le telecamere e i radar dell'auto, nel caso di incidenti o urti accidentali. Full Car Service SRL punta molto anche sul settore di noleggio di auto e furgoni. Dispone anche del servizio di vendita auto, disponendo ed è presente su molti portali, come gestionale auto e autoscout su tutti. È anche disposta a ritirare in permuto il vostro usato, facendo un'attenta valutazione, e vi dà la possibilità di acquistare la vostra auto fornendovi più di un preventivo per il vostro finanziamento. Infine, Full Car Service, attraverso diverse e attente valutazioni e un servizio di compravendita completo, vi dà anche la possibilità di ritirare il vostro usato. Full Car Service vi aspetta a Valleggio sul Minci in località Fontanello. Seguiteci sui nostri social per restare sempre aggiornati.